Buonasera amici cripto investitori e ben ritrovati a tutti quanti. Beh, io ieri ve l'avevo detto, non potete dire che non vi avevo avvisato. No, a parte gli scherzi, il video di oggi è un po' un'edizione straordinaria, infatti di solito il martedì non faccio video, ma è finalizzata a razionalizzare ed analizzare il pump di Bitcoin che c'è stato oggi. Quindi andare a capire da dove è originato, quindi quali sono state le cause, dove è diretto, quali sono i target di questo movimento, se possiamo soprattutto parlare di movimento bullish in atto oppure soltanto di una bull trap e come comportarci, quindi operativamente, come gestire le proprie posizioni, identificare i target sia su Bitcoin che sulle altcoins e fare appunto delle ipotesi di scenari e di operatività. Cosa volete di più? Prima di iniziare vi ricordo che se apprezzate sempre i miei contenuti ed il mio lavoro vi chiedo gentilmente di lasciarmi un like a questo video in modo da incentivarmi sempre a produrre. A me fa sempre piacere vedere che un video viene apprezzato. Iscrivetevi al mio canale e se non vi volete perdere nemmeno un video, se volete essere sempre i primi a vederlo e rimanere sul pezzo con le mie analisi e operatività, cliccate anche la campanellina dopo esservi iscritti, così vi arriva la notifica appena esce un mio video. Basta chiacchiere e andiamo a vedere un po' di grafici. Partiamo con un'analisi di alto livello, diciamo così, ovvero un'analisi panoramica. Andiamo a vedere come si è mosso l'intero mercato e come si è mosso bitcoin rispetto alle sue più piccole controparti, ovvero le altcoins. Come facciamo questa analisi? Come sempre andando a vedere la capitalizzazione e la dominance. Partiamo proprio dalla capitalizzazione, grafico che abbiamo sempre utilizzato in apertura delle nostre ultime analisi, non facciamo eccezione. Ci siamo mossi finalmente sopra alla famigerata resistenza che avevamo individuato tra i 134 miliardi e i 140 miliardi circa di dollari di capitalizzazione. Se vi ricordate avevamo fatto due considerazioni. La prima era che la fase precedente del mercato l'avevamo definita lateralizzazione a sfondo rialzista. Per quale motivo? Perché eravamo in downtrend e diciamo alla fase terminale del downtrend, alla fase diciamo non terminale perché questo presumerebbe una sua inversione imminente, e nella fase più acuta del downtrend si è formato un pattern di lateralizzazione. Quindi abbiamo avuto un higher low e sopra una resistenza statica. Questa resistenza statica, quella dei 135 miliardi di dollari circa, si è mantenuta e i lows sono stati sempre higher. Quindi avevamo gli higher lows che davano un'impronta rialzista a questa fase laterale che appunto rimaneva laterale perché avevamo sopra una resistenza statica che bloccava comunque la possibilità di uptrend che sarebbe invece stata data da anche gli higher highs. Fintanto che ovviamente questo pattern non sarebbe stato violato da un lato o dall'altro, quindi c'era la possibilità di violazione a rialzo con rottura della resistenza e creazione di un higher high, o violazione a ribasso invece con rottura della creazione di successivi higher lows formando un lower low, e quella sarebbe stato un segnale invece di continuazione ribassista altamente probabile. Fortunatamente si è avverato il primo scenario, dico fortunatamente perché questo ci ha fatti entrare in una fase di mercato che possiamo definire bullish sul breve periodo. Se vi ricordate avevamo identificato una cosiddetta bull zone in quell'area della capitalizzazione che va da sopra la resistenza fino a questo target. Questo target che è molto molto ampio, va dai 180 miliardi ai 235 miliardi circa, è dato dalla precedente zona di accumulazione. Vi faccio vedere un grafico un po' più ampio, andiamo su time frame settimanale, che così ci rende meglio l'idea. Allora, guardate il perché di questo target. Sposto un po' in alto. Allora, qui abbiamo la nostra fase accumulativa, che è durata tanto, guardate, ogni candela è una settimana, quindi è davvero durata tanto. La resistenza che siamo andati a bucare, e il target che è dato da questo rettangolo che ingloba quest'ultima accumulazione, anzi distribuzione qui. È un target molto importante perché, se ci andate a vedere, il suo limite superiore corrisponde anche a un vecchio supporto che ha arginato, vedete, questi boing, boing, questi bounces, questi rimbalzi, durante la fase più forte del downtrend, ovvero la fase iniziale. La fase nella quale si è invertito in maniera molto catastrofica all'uptrend di fine 2017. Quindi è un livello veramente significativo. C'è tanta liquidità lì pronta a muoversi, e pertanto va tenuto assolutamente in considerazione. In primis, assieme a tutta quest'area, nell'andare a identificare il target del movimento in corso, quello che si è innescato con la rottura della resistenza qui. In secondo luogo, per andare a definire un'eventuale inversione anche del trend primario, il trend di lungo periodo. Il trend di lungo periodo rimane ribassista, vi ricordo, non è per spegnervi gli entusiasmi, però ricordiamoci che stiamo parlando sempre di lower highs, ok, e non è ancora violata la cosa, perché è il high da rompere a proprio questo, e per ora lower lows, vedete? Quindi questo attualmente, tecnicamente, ha un ritracciamento durante un trend ribassista. Quindi, occhio, teniamo in mente questo quadro quando andiamo ad operare con time frame magari più di lungo periodo. Non facciamo acquisti alla cieca solo perché il sentimento generale è positivo. Teniamo in mente questo quadro. Quindi, ritornando al discorso di questa resistenza, è importante perché la sua rottura a rialzo innescherebbe un potenziale invece reversal anche del trend primario. Quindi sarebbe un evento davvero, davvero importante per il mercato di Bitcoin e delle cripto. Ora che abbiamo definito la situazione ad ampio spettro del mercato globale, andiamo a vedere magari Bitcoin rispetto alle altcoins, come si sta comportando. Il movimento esplosivo di oggi è stato innescato chiaramente da Bitcoin, che ha avuto la stragrande maggioranza di volumi e in un'ora, praticamente, ha tracciato una candela gigantesca che ha aumentato quasi del 20% il suo prezzo. Da che cosa è stata originata questa candela? Allora, lì ci sono, se guardate sul web, trovate le teorie più disparate. Addirittura Bloomberg ha scritto che è nato tutto da un pesce d'aprile. Ne ho lette veramente di tutti i colori. rimanendo con i piedi per terra e razionali, la spiegazione di questo è molto semplice, in verità. Non c'è nessun complotto dietro, ma semplicemente c'era una resistenza che è questa, 4100 dollari, che abbiamo attaccato innumerevoli volte in tutte le analisi scorse, nei live e quant'altro, l'abbiamo sempre citata, quindi basta che ve li andiate a rivedere e trovate le mie parole esatte. Questa resistenza, tra l'altro questo discorso che sto per fare lo avevo già fatto insieme a voi proprio, infatti ne abbiamo parlato insieme. Questa resistenza era un punto di in primis short per chi voleva shortare, non è il mio caso, chiaramente, come abbiamo già ampliamente discusso. Perché? Perché ovviamente ha una resistenza e c'è chi shorta le resistenze. Il mercato è fatto di una moltitudine di persone e non tutti operano allo stesso modo. è quello il bello del mercato. C'è chi entra long in maniera aggressiva, ancora prima della rottura delle resistenze, c'è chi entra short in ogni resistenza che vede e per ogni resistenza che a noi sembra pronta ad essere demolita, qualcun altro sembrerà invece pronta per respingere nuovamente il prezzo. E di conseguenza ci sarà sempre qualcuno che entra da una parte e dall'altra. Non diamo mai, mai nulla per scontato. Quindi questa resistenza era sicuramente un fulcro di attrazione per gli shorters che dove vuoi che abbiano messo il loro stop loss? Proprio sopra, magari qui, magari qui, insomma, sicuramente sopra uno di questi spikes in modo da, se si sbagliavano, chiudere la loro posizione proteggendola, giustissimo, come stop loss. Seconda cosa, chi è che avrebbe potuto mettere un acquisto qua sopra? Tutti coloro che attendevano nient'altro che il breakout. Magari uno, prima di andare a letto, ha detto ma mettiamo uno stop buy qua sopra così se rompe entro e non me lo perdo e non mi sveglio col pump, è già accaduto. E quindi stop buy. Stop buy più stop loss, tutti quanti fanno ordini di acquisto e quindi sparano il prezzo. Ok? Appena il prezzo avesse rotto quella resistenza, era facile prevedere che sarebbe sparato in maniera così esplosiva, proprio perché ci sarebbe stata una grande quantità di stop loss e stop buy pronti a scattare. Oltre a questi cosa ci si può mettere? Beh, ve lo dico subito. Non so se avete letto il mio post di oggi dove ho fatto un'analisi sommaria stamattina giusto per non farvi aspettare fino a stasera con il video. Ma vi ho pubblicato questa immagine che è presa da questo sito datamiche.com che è un sito open source gratuito che vi fa vedere un po' di dati sul sentimento, su long e short e quant'altro e le liquidazioni di Bitmax che è un dato curioso. L'API di Bitmax espone le liquidazioni avvenute delle ultime sei ore. Ultimamente, ecco, è curioso vedere come sono stati liquidati più long che short. Quindi vedi che la FOMO già sta prendendo il sopravvento. Tuttavia, stamattina, chiaramente, gli short sono stati liquidati per mezzo miliardo. Guardate che cifra assurda. Mezzo miliardo di liquidazioni di short. E questo significa che è come, esattamente come se ci fosse stato un market buy di mezzo miliardo di dollari. Cosa vuoi che succeda se non che pompa su tutto? Tutto questo messo insieme ha causato proprio questa candelona qua e la turbolenza che ne ha derivata perché poi la gente vede una candela così non capisce più niente si fa prendere dalla FOMO c'è chi vuole shortare alla cieca perché ha sparato e allora scende insomma di tutto e di più e ovviamente si genera volatilità e turbolenza. A qualcuno piace, a qualcuno meno fatto sta che il mercato funziona in questo modo. Quindi se vogliamo magari una piccola componente manipolativa piccola fino a un certo punto perché in realtà potrebbe essere stata anche abbastanza grande ci potrebbe essere stata nel senso che era facilmente prevedibile come vi ho detto poco fa che spingendo il prezzo un po' verso l'alto si sarebbe innescata proprio quella cascata di stop orders e liquidazioni e quindi di conseguenza un pump. Era prevedibile avere il capitale per generare un pump un breakout dalla resistenza non è da tutti ma magari qualcuno ci poteva riuscire. E che altro si può dire? Che ovviamente le altcoins sono state prosciugate perché? Perché quando bitcoin strappa in particolare dopo un periodo di lateralizzazione le altcoins soffrono come funziona? Funziona che le altcoins diventano target primario degli speculatori dei traders laddove bitcoin non offre grandi spunti quindi appunto nelle fasi laterali più la fase laterale è lunga più le altcoins diventano un obiettivo appunto da seguire nel quale il capitale si riversa quando poi invece bitcoin inizia a strappare tutti quanti ci si tuffano dentro prosciugando di conseguenza le altcoins qui un trader furbo un investitore furbo sta attento a questi movimenti perché? Perché se un altcoin ha performato bene in una fase tipo questa e soprattutto se c'è stato un perché che l'ha fatto come ad esempio potrebbe essere che ne so Basic Attention Token piuttosto che Monero Stellar e quant'altro vale la pena guardare il trend che si è impostato nel frattempo e poi andare a cercare proprio il flash crash che si genera in questi movimenti di poca razionalità e approfittarne per piazzare dei begli ordini magari su dei supporti intelligenti e questo ci permette di entrare sia speculativamente che non perché la posizione potrebbe essere di brevissimo oppure anche magari di di medio periodo se vogliamo sul giornaliero sulle altcoins che ci interessano che avremmo voluto acquistare ma non siamo riusciti proprio perché il trend è partito senza di noi dato che non va mai seguito un trend alla cieca in pre-dalla FOMO ma bisogna aspettare i momenti propizi per entrare per acquistare quindi adesso andiamo a dare un'occhiata proprio a queste cose e tra l'altro ecco per chiudere la panoramica la dominance di bitcoin che fa vedere quanto bitcoin appunto domina il mercato ha avuto un pump vedete di 1.5 no 1% per adesso da 53 a 54 che comunque è del tutto considerevole e ci ha fatto capire come appunto le altcoins abbiano fatto un passo indietro rispetto a bitcoin in questo pump andiamo a vedere adesso ipotesi di posizioni andiamo sul concreto non voglio solo dire parole parole basta allora su bitcoin in realtà io per come è il mio stile di operatività ve l'ho sempre detto in questa zona prima della resistenza non ho operato né short né long per quale motivo perché la mia operatività mi dice sempre di non operare long a ridosso di una resistenza sotto una resistenza e così ho fatto operare short era altrettanto folle proprio perché questa resistenza era stata testata talmente tante volte e soprattutto sempre più da vicino che insomma era veramente rischioso shortarla al decimo testo quello che era e infatti le liquidazioni poi si sono viste io avevo aperto una posizione in basso in maniera esagerata ipotizzando un eventuale ulteriore dump avrei voluto approfittarne proprio perché era una posizione ben impostata ovviamente adesso perde completamente di senso quella posizione lì e ho rimosso anche l'ordine adesso che posizione potrebbe avere senso allora il target del movimento in corso che avevamo identificato già da Moss vi ricordate a questa area rossa gigantesca che va ad identificare niente po po di meno che quella zona che si frappone tra il supporto a 6.000 e qualcosa che era il supporto dei molteplici rimbalzi che bitcoin ha avuto durante il bear market nella prima fase prima dell'ulteriore dump e come limite inferiore invece il tetto diciamo di questa zona di rimbalzo questo è un time frame settimanale attenzione quindi questo è il limite inferiore questo è il limite superiore è una zona molto ampia ovviamente ma perché semplicemente non abbiamo ancora dati per vedere quale potrebbe essere un target preciso quello ultimo sicuramente è la zona 6.000 se vogliamo definire un target un upper target diciamo così in questa zona io l'ho definita ampia apposta proprio perché qui dentro se io fossi dentro long inizierei a fare i take profit un po' frazionati o altrimenti se volessi operare se non fossi ancora dentro magari potrei iniziare ad operare short ovviamente un'operatività short è molto più auspicabile vicino ai 6.000 piuttosto che agli inizi di quest'area rossa ok proprio perché più si va verso l'alto e più diventa un risk reward a favore mettendo lo stop loss chiaramente qua sopra ad esempio come funziona questa zona funziona che se la rompiamo bitcoin fa un higher high quindi attenzione si inverte il trend primario e sarebbe davvero un momento storicamente importante perché si starebbe esaurendo il bear market in atto cosa in cui tutti quanti stiamo sperando da tanto però vi riporto sulla terra di nuovo il bear market è ancora in atto nonostante questo candelone dato da forti short squeeze forti liquidazioni e quant'altro quindi attenzione rimaniamo razionali può avere senso operare short qui assolutamente sì è un'operatività trend follower perché questo rimane comunque un ritracciamento del bear market in atto è un discorso analogo a quello visto con la la capitalizzazione quindi un'operatività può essere di questo tipo una seconda operatività magari più di breve potrebbe prevedere un ingresso su due livelli long chiaramente su due livelli di ritracciamento di questa candela per ora l'impulso è terminato qui quindi possiamo tracciare un fibonacci che ci individua come zona di ritracciamento più profittevole chiamiamola così tra 78 e 6 e 61 e 8 come sempre e tra l'altro qua abbiamo vedete anche questa zona di supporto resistenza quindi è un'area in cui si potrebbe entrare discretamente bene con un'ottica per ora intraday chiaramente perché è un impulso che si è verificato tutto in una singola candela giornaliera quindi non ha ancora senso parlare di una posizione su più giorni è un'ottica intraday nel senso che se ritraccia immediatamente uno entra e poi cerca di speculare sull'impulso immediatamente successivo nel caso in cui la candela si dovesse chiudere sempre così con spinta rialzista e le candele successive magari dovessero mostrare un ritracciamento un po' alla volta con volumi calanti attenzione calanti ma non appiattiti perché altrimenti puzzerebbe molto di Bart farebbe pensare a un imminente altra candela a caso che in quel caso lì è no trade zone non si opera invece se fosse un ritracciamento organico allora si potrebbe pensare a una posizione su più giorni quindi una posizione su time frame giornaliero o qui o qui oppure frammentando in quest'area ma vedendo appunto come quanto sono ampie le candele successive come ci muoviamo che volatilità manteniamo e quant'altro se la volatilità è alta ha senso mantenere un'area di acquisto qui se la volatilità è bassa si può anche alzare un attimino il tiro spostandosi addirittura qui con target sempre qua attenzione non guardiamo troppo distanti focalizziamoci sul movimento in corso infine abbiamo parlato di come le altcoins possano costituire un'ottimo un'ottima opportunità vi faccio un esempio a me è andato un po' di culo ma stavamo seguendo se vi ricordate Stellar dopo il breakout da questo pattern di cui abbiamo parlato in maniera ormai fino allo sfinimento e vedendo che qua si è rinnescato un ritracciamento perché vedete si sono creati dei lower low e lower highs dopo il primo take profit già fatto tra l'altro abbiamo individuato io avevo individuato un'altra zona di entry che era questa più o meno vedete dove si trovavano le shadows sopra alla resistenza al breakout che era stato eseguito da questo pattern questa era una possibile zona di entry da tenere d'occhio con un buon risk reward perché mettendo uno stop loss sotto la zona di accumulazione quindi qua sotto oppure addirittura sotto i minimi per chi vuole una posizione più di lungo periodo si poteva entrare molto bene io ho messo un entry abbastanza alto per quello ho avuto culo perché mi è scattato ciò non nega che potrebbe esserci un ulteriore dump attenzione non è detto se bitcoin spara ancora fidatevi che un altro dump c'è però sicuramente può essere una configurazione da tenere d'occhio altre configurazioni interessanti beh ad esempio walton chain guardate come ha reagito bene se vi ricordate anche questa l'abbiamo tenuta d'occhio ci sono ancora le frecce che avevo fatto ovvero salita con volumi con cordi e avevamo disegnato questa resistenza più o meno mi pare che fosse che è stata rotta quindi anche qui abbiamo avuto un bel breakout dalla resistenza e abbiamo ecco questo era già più difficile perché abbiamo rotto due resistenze in realtà questa e quest'altra e l'altra è stata rotta solo ieri quindi andare ad agire subito qui sarebbe stata un'opzione prematura tuttavia vedendo come ha reagito bene si potrebbe pensare eventualmente di aprire qualche piccola posizione magari qui e magari qui con uno stop loss sotto all'ultimo supporto per esempio visto che è questo la resistenza che ora è diventata supporto che ha originato il movimento in atto un'altra coin interessante può essere VeChain guardate come ha reagito bene anche lei è impostata bene l'uptrend è originato dalla rottura di questo pattern che poi è stato retestato e ripartito è in uptrend vedete e con oggi non ha neanche dampato particolarmente è andata solo a ritestare quest'ulteriore supporto qua in maniera molto mordi e fuggi però come vedete c'è un uptrend in corso quindi si potrebbe anche qui andare a piazzare un ulteriore acquisto magari più in basso di qui visto che comunque ha ritracciato poco e ad esempio in questa zona così nel caso di un altro flash crash e di un altro pump di bitcoin non ci troveremo con le mani in mano di altre coins che si trovano in maniera si piazzano in maniera interessante ne avevo vista c'era basic attention token che guardate anche lei è in ottima posizione perché è in uptrend e tra l'altro poteva essere l'occasione potrebbe essere l'occasione per cui quest'area venga retestata quindi un limit buy qui piccolo piccolo si potrebbe piazzare sempre nell'ottica speculativa di un altro flash crash o di un ritracciamento di questo tipo ethereum è un po' più rischioso perché ha avuto un breakdown da qua vedete non è stato molto bello il movimento di ethereum quindi a dire la verità non ci entrerei con particolare vigore ecco magari qualcuno potrebbe dire si eh guarda questa zona si poteva entrare qui ok è vero però questo breakdown da boing 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 da questo supporto creato recentemente non mi è piaciuto quindi a dire la verità ethereum non sarebbe la mia prima scelta litecoin in realtà ha fatto un movimento veramente anomalo però neanche litecoin sarebbe la mia prima scelta in quanto ha il grafico che rimane iperesteso cos'altro si potrebbe guardare dunque cardano mi pare che fosse ben impostato tuttavia ecco è la prese con una resistenza e un'eventuale zona di ritracciamento potrebbe essere questa qui che non è proprio vicina vicina però potrebbe essere una zona dove piazzare un timido acquisto vedete qua sopra sopra a questi numerosi test e in questa accumulazione qui vedete di possibilità ce ne sono ovviamente nulla ci dice che verranno innescati i nostri buys però è per non farsi trovare impreparati ad un'eventualità di questo tipo e dire poi dopo cavolo se ci avessi pensato prima voi avete visto altre altcoins messe giù in questa maniera o no voi cosa avete intenzione di fare insomma lasciatemi un commento che sono curioso anche di conoscere la vostra operatività per quanto riguarda basic attention token vi ricordo già che ci sono ve la butto lì che mi potete fare una piccola donazione tramite il browser brave se vi andasse non mi dispiacerebbe ovviamente è sempre apprezzata ma i miei contenuti rimarranno sempre e comunque gratuiti quindi ricapitolando prima di chiudere il bull market c'è oppure è tutta una trappola allora io ve l'ho detto per adesso per me c'è nel senso il movimento in atto è bullish sul breve termine il target ve l'ho dato quindi più di così non so cos'altro aggiungere attenzione a non fasciarsi la testa non dire questa è il reversal il downtrend è finito perché non è la verità non facciamoci ingannare contestualizziamo sempre tutta l'operatività nel movimento in atto e poi al raggiungimento del target e alla reazione con esso andremo a ragionare cosa fare dopo ragazzi spero che vi sia stata utile questa analisi vi faccio un caro saluto e alla prossima